Si è tenuta a Palazzo Lascaris la premiazione della terza edizione del premio Piemont-Cascriu e le sue tradizioni, organizzato dal Centro Studi Cultura e Società con il patrocinio del Consiglio Regionale e della Regione Piemonte. Il concorso in lingua piemontese per poesia e narrativa breve promuove e valorizza la lingua piemontese, la cultura popolare e le tradizioni del Piemonte. Alla cerimonia hanno partecipato i figuranti del gruppo storico intitolato alla Contessa di Mirafiori e alla sua gente.